Buongiorno, buongiorno a tutte, oggi c'è il sole, bella giornata. Noi oggi abbiamo già messo la base, io ho messo la base per accompagnare i bambini a scuola almeno, descrivibile la situazione facciale della mattina. Ok, ripassiamo con un pochino di cipria, o il 60 della nubba che è un fondo cipria che vi dicevo si può mettere sia con il pennello, sia bagnando la spugnetta, si fissa 60 secondi e diventa un fondotinta. Oggi faremo la base occhi, speciale per la mia amica Lilli, che mi ha chiesto in particolare un video sugli ombretti. Allora, caffè l'abbiamo già preso, adesso siamo pronte per dedicarci agli occhi. Io, dopo aver messo il fondotinta, la base, il fondo cipria, quello che vogliamo, metto sugli occhi sempre un nude. Ah, potrebbe essere anche lo stesso, 60 che utilizziamo. Anche con il dito facciamo una base, in modo che comunque sulla palpebra vediamo un colore uniforme, senza diversi tipi di sfumature. Ecco qui, ok. Poi, che cosa facciamo? Scegliamo il colore. Io oggi sono rosa e metterò rosa e viola. Allora, la base più chiara la possiamo stendere con un pennellino un pochino più grande, perché tanto non dobbiamo fare attenzione su come ci regoliamo. Quindi, prendiamo il chiaro, lo mettiamo su tutta la base, eccolo qua, su tutta la nostra base, ecco qui. Mi si è sporcato un po' con lo scuro. Se succede questa cosa, come è successo a me, prendete un tovagliolino, ovviamente, imbevuto di liquido per gli occhi e ritogliete e cominciate da capo, come ho fatto io questa grande gaffa. Va bene, ricominciamo. Allora, base 60, mio dito pulito, ok. Perfetto, facciamo una base. Allora, tante persone usano il primer, che comunque fa mantenere benissimo l'ombretto. Il primer che noi possiamo utilizzare, se non abbiamo un vero e proprio primer, è un ombretto in crema nude. Qualsiasi ombretto in crema nude, tranquillamente lo possiamo utilizzare come primer. Aspettiamo 10 secondi che si fissa e poi lo utilizziamo come fissatore del nostro ombretto. Allora, stendiamo tranquillamente il colore chiaro. Io spesso cerco sempre un satinato, un brillantato. Questo è il numero 35 della nuba, che poi, tra l'altro, una cosa che non vi ho mai detto, mi sono sempre dimenticata, gli ombretti nuba. Se bagniamo il pennellino sottile, lo intingiamo, ci fanno anche d'eyeliner. Allora, dopo aver fatto la base, riprendiamo il nostro numero 60 e lo passiamo soltanto sotto le nostre sopracciglie o qualsiasi tipo di cipria chiara, in modo che ci slancia l'occhio. Poi, prendiamo il pennellino più piccolino e andiamo sulla parte scura. Parte scura, ecco qui. E cerchiamo di fare un pesciolino alla codina dell'occhio, in modo che facciamo questa piccola sfumatura di colore. Se volete, lo potete spandere anche sotto per creare un po' di riporto di colore. Allora, qua poi noi possiamo definirlo con la matita, sempre viola magari, o comunque un color vissola, oppure possiamo optare per un rosa scuro, un rosa antico, anche un marrone ci possiamo sfumare. Io oggi mi tengo sul viola. Allora, finito il pesciolino, vedete che abbiamo una differenza di colore. Finito il pesciolino, andiamo a prendere la nostra matita e la passiamo sottile sottile sotto facendo una codina. Poi riprendiamo il nostro scolino piccolino. Ecco qua. Per non fare troppo la riga netta, allora, c'è a chi piace, come me che piace portare la riga, c'è a chi non piace, la possiamo comunque risfumare con il pennellino e ci fa un effetto proprio naturale. Ecco qua. Dopodiché, lo scuro l'abbiamo messo, ripicchettiamo con il chiaro. Alcune volte possiamo usare tre colori. Io tante volte, lo sapete che cosa faccio? Utilizzo una sfumatura di rosa, che è come la base che abbiamo utilizzato, che è questa qua, e la metto vicina a rosa. E poi, in punta in punta, uso un chiaro, qualsiasi chiaro, anche brillantinato. Per esempio, adesso possiamo utilizzare proprio, io ho questo nude, colore base 400, e me la metto proprio insieme all'occhietto, proprio alla punta alla punta, in modo che mi apri totalmente l'occhio. Eccola qua. Possiamo usare, per esempio, anche un tortora, un tortora chiaro, il 24, la parte chiara del 24, e la mettiamo qua, che è praticamente un metal, un metal chiaro, non è proprio un bianco, un metal. Riprendiamo lo scovolino, facciamo sempre, ripassiamo il nostro occhietto, con il pennellino, un pochino più grande, omogenizziamo tutto, ecco qua. E l'ombretto è fatto. Poi, sopracciglie, timbrino, sopracciglie, io vi ricordo, uso il timbrino, perché ci metto meno. Ecco qua. Perfetto. E poi, dolcis in fondo, il mascara mio. Allora, Maxitec, io utilizzo un Maxitec, vi ricordo, che ha lo scovolino in silicone. E adesso, la nuba ci ha fatto questa offertina fantastica, dove ci mette il Volumaxi, che è quello, col scovolino normale a piramidina, il Maxitec e il mascarone. Mascara. Matita, che solo lei costerebbe 15 euro. Portatrucco, portocchiali con gira brilla. Da 29, scontato 20 euro. Un bel kit da regalare, anche a Natale, per l'amica, la collega di lavoro. Pensierino, giustissimo. Utile, soprattutto in questi tempi. E utile perché, avendoci la mascherina, l'occhio è la prima cosa che noi notiamo. Allora, mettiamo il mascara. Ecco qui. Come vedete, il Maxitec subito, fa questo effetto, ventaglio. Vi ricordo, che la nuba costa 20 euro, scontata, ma sono all'interno, 19 ml, adesso ve lo dico preciso, 18 ml, praticamente, è il doppio, degli, dei mascara, che sono in commercio, i commerciali, che voi conoscete benissimo, che vanno, anche se vengono 15, 13, 10, all'interno, c'è 9 ml, massimo 10 ml, di prodotto. Qua abbiamo, 18 ml, di prodotto. Dopodiché, con questo trucco, dove abbiamo valorizzato l'occhio, perché abbiamo fatto un trucco, un pochino, più vispo, con viola e rosa, che cosa facciamo? Sulle labbra, che cosa mettiamo? Io preferisco, un naturale, il mio, fantastico, 52 nuba shine, effetto acqua, che è un lucido, un rossetto, lucido, effetto acqua, naturale, leggermente, brillantinato. In questo periodo, come avete visto, le mie labbra, che sono un pochino, screpolate, perché fa caldo e freddo, caldo e freddo, caldo e freddo, quindi, alcune volte, ci serve fare, un pochino di scrub, quello che abbiamo visto ieri, nell'altro servizio, lo scrub, quello con microgranuli, che facciamo sul viso, lo possiamo passare, tranquillamente, sulle labbra e poi affrontare, quest'inverno insieme. Bene, qui è finita il servizio degli ombretti, un saluto alla mia nipotina Lilli e buona giornata a tutte, vi aspetto!